Un errore delle poste ha comportato la sospensione della invalidità civile perché non è stata recapitata la lettera di convocazione per la visita medica. È quanto è accaduto in Salento, Alba di Palo. Un cortocircuito con le poste ha portato l'Inps a sospendere l'invalidità civile a chi non sapeva neppure di essere stato invitato a visita medica perché la lettera è arrivata al destinatario un mese e mezzo dopo la data fissata per l'accertamento. È quanto denuncia lo SPI, il sindacato dei pensionati italiani di Lecce, alle prese con diverse lamentele da parte dei cittadini. L'Inps ha invitato a visita medica, si legge in una nota del sindacato, un pensionato per accertare la permanenza dei requisiti sanitari per la pensione di invalidità. La data riportata sulla lettera è il 10 novembre scorso, la visita medica fissata per il successivo 6 dicembre. La raccomandata sarebbe stata presa in carico da poste italiane solo il 1 dicembre nel centro operativo di Fiumicino, passate in lavorazione prima a Bari, poi nel centro di Casarano il 4 dicembre, per poi tornare in lavorazione a Bari il 6 dicembre, poi ancora il 15 in lavorazione nel centro del comune di residenza del pensionato, e infine in consegna il 29 dicembre, un mese e mezzo dopo essere stata scritta e 23 giorni dopo la data della visita. Il 6 dicembre l'invalido civile non si è presentato a visita, spiega il sindacato, per cui è stata avviata la revoca del beneficio. Lo SPI CGL Lecce, attraverso il patronato Inca, ha chiesto la revoca della sospensione e una nuova data per la visita medica. Secondo la segretaria generale dello SPI Lecce, Fernanda Cosi, l'Inps deve avvisare pensionate e pensionati con un congruo anticipo e prima di sospendere o, peggio, revocare una prestazione, deve assicurarsi che l'utente abbia ricevuto la comunicazione. L'Inps potrebbe organizzare meglio il meccanismo delle convocazioni inviando gli inviti con maggiore anticipo, ribadisce il segretario provinciale dello SPI di Lecce, Gioacchino Marsano.